Ciao, buonasera a tutti Noi appunto siamo i Bad Gentleman Siamo un gruppo rock e facciamo sia cover che pezzi nostri E stasera iniziamo con un pezzo di Elvis Presley Blues with Shoes E stasera iniziamo con un pezzo di Elvis Presley E stasera iniziamo con un pezzo di Elvis Presley Blues with Shoes One for the money, two for the show Ready to get ready now, go 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 That's it That's it Grazie.